Con i sondaggi che ne stanno attestando la crescita in ambito nazionale, anche in Calabria, il PDL prova a rimettersi in carreggiata. Dopo la bomba lanciata dal capogruppo alla provincia di Cosenza, Mario Russo, cerca le sue imminenti dimissioni, tocca al capogruppo regionale, Giampaolo Chiappetta, serrare le fila e provare a rinnovare la fiducia nel partito del Cavaliere sull'Alto Tirreno. Dopo la visita informale dei giorni scorsi del senatore Antonio Gentile, che si è detto disponibile a farsi promotore della legge speciale per la questione di Emanio Ascalea, il gruppo del Popolo e della Libertà in consiglio regionale sarà oggi pomeriggio alle 18 a Diamante. Le campagne elettorali sono spesso e purtroppo segnate dalle difficoltà di mettere in evidenza gli aspetti e dei risultati concreti, ha detto ieri Chiappetta annunciando l'appuntamento, ma l'azione della Giunta Scopelliti di fronte a mille difficoltà ha dato risposte. Siamo stati fino ad oggi protagonisti, prosegue Chiappetta, di una coraggiosa azione di governo alla guida di una regione complicata e difficile, individuando e percorrendo strade non semplici per ottenere i risultati che i calabresi ci hanno chiesto con forza. Nella roccaforte del Renziano Magorno ad accogliere i rappresentanti del PDL ci sarà il circolo cittadino, che pure ha vissuto momenti di crisi, soprattutto a ridosso delle scorse elezioni amministrative. Il dualismo tra Pino Pascale, candidato con la lista ricusata del volo, e Francesco Bartalotta, eletto consigliere di opposizione con cambiamenti, non ha giovato alla causa del PDL. Oggi, a ridosso delle elezioni, il risultato per il centrodestra a diamante in tutto l'alto tirreno è davvero un'incognita.